Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora mi è capitato anche nel recente passato di parlare di Paola Egonu per quei pochissimi che non lo sapessero grande pallavolista italiana ma non solo, probabilmente la più forte pallavolista in circolazione e spesso quando si parla di questi grandi atleti ci sono anche delle questioni che diventano cronaca, noi soprattutto trattiamo di questioni di cronaca, di questioni politiche, di avvenimenti che riguardano la nostra vita, la nostra esistenza. Ora io ho avuto modo nel passato di parlare di Paola Egonu in particolare dopo la sua presenza a Sanremo e le polemiche che ne sono scaturite. Apro una breve parentesi per quelli che magari non mi conoscono e non lo sanno, io mi sono occupato per molti anni di pallavola ad alto livello, sono stato direttore generale a Milano, ho fatto il team manager a Monza, sempre in Serie A, quindi conosco quell'ambiente. Ho avuto modo di incrociare nei palazzetti Paola Egonu e quindi soprattutto quando poi ci si confronta fra dirigenti, insieme ai giocatori, insomma si viene a conoscenza di certe questioni che riguardano atlete soprattutto di questo livello appunto come Paola Egonu. Allora secondo il mio punto di vista tutti i mali che vediamo in questi giorni, adesso ne parliamo, per Paola Egonu nascono purtroppo da una scelta che io considero e ho considerato qualche mese fa sbagliata la sua presenza a Sanremo. E a proposito questo è un altro fatto molto grave che talvolta queste atlete non hanno chi li aiuta veramente, chi li consiglia, chi sta dietro a loro e questo poi fa sì che l'inesperienza, tante questioni risultano poi nocive per gli atleti stessi che non sanno gestire la notorietà, non sanno gestire il loro personaggio. Io ritengo ed è una mia personale opinione che gli atleti in generale non debbano mai partecipare a queste chermesse, sono pericolose per loro, li possono anche distrarre, è un mondo lontano, anni luce spesso dal mondo dello sport e molto spesso sono anche delle trappole come secondo me è stata quella tesa a Paola Egonu a Sanremo. Perché dico una trappola? Perché è ovvio che qualcuno aveva interesse di portare in particolare Paola Egonu e quel tipo di atleta con le sue idee, col suo modo di essere, ricordiamo che Paola Egonu è dichiaratamente omosessuale, Paola Egonu è un'atleta che ha origini africane, nigeriane, ma è nata in Italia e quindi spesso è venuto fuori anche il tema del razzismo e quindi qualcuno, le grandi lobby che stanno dietro a queste chermesse, a queste apparizioni, l'hanno usata, questo è il mio punto di vista, nuocendole poi parecchio in seguito. Perché Paola Egonu ha fatto delle dichiarazioni anche sul razzismo che poi in parte se n'è pentita, che le hanno giocato un attimino contro, avendo poi già una situazione difficile all'interno del mondo della pallavolo, probabilmente anche questo non le ha giovato. Ora Paola Egonu, per chi non avesse letto le ultime, già durante i campionati europei che sono stati un fallimento per l'Italia, perché l'Italia veniva dal titolo europeo vinto a casa della Serbia, in finale proprio con la Serbia, che questa volta in finale ha perso dalle turche e anche lì, piccola parentesi, ho parlato di cosa è successo, di Erdogan che praticamente ha naturalizzato un atleta che non c'entra nulla con la pallavolo turca, non c'entra nulla con la Turchia, cioè la cubana Vargas. Ormai siamo a questi livelli che per vincere si fa di tutto, ma di questo abbiamo già parlato, rimaniamo a Paola Egonu, appunto, che è stata messa un po' da parte, da parte, scusate il gioco di parole, della nazionale italiana e del suo allenatore, Mazzanti, che prima degli europei gli ha chiaramente detto, guarda che io ti utilizzerò come riserva, ti sta bene o non ti sta bene? Lei avrebbe anche potuto decidere di starsene a casa, ha deciso di accettare il ruolo. Poi bisogna guardare il risultato, io per carità non voglio addossare nulla a Mazzanti. L'Italia è terminata ultima, si può dire, perché francamente, insomma, oltre alle quattro squadre, la Turchia, la Serbia, l'Olanda e l'Italia, le altre sono parecchio dietro e quindi finire quarta vuol dire essere finite ultime rispetto alle squadre che contano, la pallavolo che conta. E quindi chiaramente un risultato fallimentare. Non attribuibile, secondo me, specialmente nella semifinale alla responsabilità di Mazzanti, perché non è così, perché purtroppo lì hanno giocato altre ragioni. L'Italia poteva tranquillamente chiudere quell'incontro, vincerlo per 3-7-1, era in vantaggio di 4 punti ad oltre metà del quarto set, poi succede talvolta negli atleti qualcosa, una palla sfortunata, una disattenzione, ed ecco che si è rimesso in gioco il set, l'abbiamo perso e poi sono crollate psicologicamente nel quinto. Ora la notizia è questa. Paola Egonu, dopo gli europei, avuto, sembrerebbe, le voci dicono, un faccia a faccia piuttosto duro, l'aveva già avuto durante gli europei con l'allenatore Mazzanti e ha deciso di non partecipare alle qualificazioni che tra pochi giorni si terranno in Polonia, alle qualificazioni per le Olimpiadi che ci saranno prossimo anno a Parigi. Tutti sanno che, insomma, è una scusa quella che si deve riposare, insomma l'hanno capito anche i bambini, le ragioni sono quelle che vi stavo raccontando, questi rapporti molto molto difficili. Ora, io l'ho detto in passato, lo ribadisco, Paola Egonu però deve anche prendersi le proprie responsabilità. Lei ormai è una donna adulta, ha deciso di andare a Sanremo, ha deciso di fare certe dichiarazioni, inoltre non ha un carattere facile. Allora, diciamocelo, sicuramente il problema con l'allenatore è il problema principale, ma non è che poi sia così amata all'interno della nazionale da parte delle sue colleghe. Credo nulla in particolare, ma una mal sopportazione rispetto a un atleta che ha un carattere particolare, un po' chiuso, se ne sta un po' sulle sue in certi frangenti, in altra sembra mal gustosa, non propensa a quelli che la vita dà atleta, no? Cioè, questioni non drammatiche secondo me, perché io non voglio eccessivamente colpevolizzare Paola Egonu, ma situazioni che poi all'interno dell'ambiente ti creano antipatie, perché? Già c'è un problema probabilmente anche un po' di gelosia, non credo che sia il problema principale per quanto riguarda le sue colleghe, ma il fatto che lo sappiamo, se sei la più forte del mondo devi dare però anche l'esempio, essere la prima a entrare in palestra, l'ultima ad andartene, sempre super concentrata, se appena molli un po' oppure hai atteggiamenti come lei in passato ha avuto qualche volta, è chiaro che poi l'ambiente se la lega un po' al dito. Adesso il problema è che l'Italia non è che rischia di non andare alle Olimpiadi, perché anche se dovesse fallire l'appuntamento delle qualificazioni poi conterà il ranking dove l'Italia è messa molto bene, ma quello che è sicuro a questo punto, fin quando ci sarà questo allenatore, cioè Mazzanti, difficile che Paola e Gono giochi per la nazionale e questo è un peccato, chiaramente è un peccato perché si rinuncia all'atleta più forte al mondo in questo momento. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.